Un commento sulla giornata d'apertura di questo Cersaie 2014, 32esima edizione. È presto perché non abbiamo ancora i numeri, ma le sensazioni sono state quelle di una giornata molto interessante, affollata, abbiamo visto a tutti gli eventi organizzati un pubblico molto folto, quindi gli auspici sono che sarà una manifestazione da grandi numeri. Quanto è importante l'innovazione in questo periodo storico? L'innovazione è centrale perché noi siamo in una contesa, una competizione in un mercato globale dove la manifattura italiana, anche nel settore della ceramica, l'unico modo che ha per conquistare i mercati è quello di dimostrare l'eccellenza, l'eccellenza è l'avanguardia, la capacità di progettare con contenuti innovativi e quindi l'innovazione rimane al centro.